Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con Marci Nelle Cubo Lucky Block Team Marci io non faccio schifo Eh No 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 Ah è un mercato Serio? Lo ho sentito bene? Il black hole l'ho trovato Come? No non è vero Te lo giuro black hole guarda Ma no non è vero Quel rumore lo fa soltanto al destructo Apre guarda Come tienilo te lo ridò Non lo voglio Non lo voglio nemmeno io Che schifo Che merda Abbiamo già l'anvil comunque Ma veramente non era al destructo Ho il Jackie Chan Ho il Jackie Chan Ma dai che top Ho il Jackie L'antimatera no Dov'è? Dov'è? Non sto capendo nulla Marci dov'è l'antimatera? Ah laggiù Comunque ho trovato un diamante Se trovi il piccone prendilo eh E non te lo tenerei per te brutto lezzo Va bene Ma veramente l'ha lasciato qui il piccone? Vabbè Lo Sei il piccone buona l'arco volevo dire Ciao Non mi interessa quel black hole Mi fa cacare Ma comunque si utilizza Nel senso Non è che dici Lo lascio lì per terra Non lo uso E chi se ne frega Oh ho trovato gli haters Marci 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 Ma No Marci Cosa? Uno nove No io sei uno undici Tano Ho trovato il piccone Tano sei uno undici Me ne sono accorto appena ho visto lo zombie Ma sai che io non ho ancora trovato Ho un ender pal e un basso di cio del knockback Non ho trovato nient'altro Ah che fatica che fatica che sarà questa cosa qui veramente Ho trovato però le tnt Cioè in verità non l'ho trovata Erano qui per terra Ma non va il chiuso di blaze Ma non va neanche lo speed Oh lo speed lo va Ma aspetta ma quante envi l'abbiamo nella nostra isola? Non lo voglio so Io ne ho trovate un paio Ma infatti visto che ne trovate due Una alla volta Questo 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 Bello mio Non lo confiami Distratto Io vado già a dar fastidio a qualcuno Marci No 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 Ma cosa fai ma sei pazzo A me mancano ancora le ender Cioè ne ho due Ma con due non ci faccio nulla Oh cos'era quel rumore? Non si è tippato qualcuno Ma no Sto affondando No Marci Oh lupetto Marci Io sono incastrato nelle regnatele Eh mi dispiace non posso fare niente Sono incastrato Ok Ok ce l'ho fatta Sta ancora spaccando Si No 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 Vabbè tiro l'ender per Tiro l'ender per Dov'è? Marci Non lo vedo nemmeno No Tanno laggo Laggo Ma non lo vedo non c'è Laggo Marci è invisibile È invisibile questo È invisibile Mi spacco Sono i rossi Eh no non ce l'ho fatta Marci è invisibile questo E mo E mo vado dai rossi Vai dai rossi ucciderli Vai dai rossi Ma come dai rossi Vai 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 Tu continui a tirare le sparate accanto Se ti risparate lì praticamente Non lo so Si annoia Cioè comunque non fa nulla Ma sto laggando io Non mi da la roba No mi ha subito sgamato questo qui Marci Mi ha subito sgamato Madonna No 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 Ok no cavolo Marci 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 No mi ha voluto lì sotto Niente Niente Ce la fai? Non lo trovo Non lo trovo È invisibile Io sono sul nostro nucleo Non lo trovo Ma è ancora qui Non riesco a prenderlo Si l'ho preso Ho visto dov'è C'è la spada fuori Si l'ho visto anch'io L'ho visto anch'io È diventato visibile È diventato visibile No cazzo Oh non riesco a piazzare il blocco No dai marci Ok non ce l'ho fatta ora Oh Ci sono 20 anni però veramente 20 anni Non ho tanto la spada lezzina Io non ho trovato ancora nulla Di veramente utile Aveva trovato la spada lezzina Dobbiamo andare a ucciderli Tanno Dobbiamo andare a ucciderli qui Sì ma Eh Marci Un casino Ci ha fatto i fatti completamente Zio P Allora senti C'è quello lì che ha lo stecchino OP E quello stecchino OP Cosa? Tanno Eh ti vedo Ah c'è lo stecchino Uh si cadeva di sotto Ok così in teoria è fattibile Eh Tanno 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 guarda girati Un corpettino Che bello Quello con Torns Sperando non abbiano trovato la spada agli altri Perché se hanno trovato la spada lezzina Ah ho trovato il bastone Ma no secondo me l'ha tolto Marci Non ce l'ho Spera te lo tiro perché l'ho trovato uno pure io L'ho messo davanti alla cesta I do not have zip di cos Ok grazie Thank you Allora io mi sto tipando da loro Thank you so much Eh? Mi sono tipato da loro Vai vai bomber Dobbiamo Mi ha ributtato di sotto cazzo E lui non nemmeno l'ha preso mi sa Ce l'hai un po' di frecce? No non ce le ho Sì ne ho 15 Ne ho 15 Dammi una che uso il black hole Aspetta In effetti non è male Ce l'ho pure io Lo uso sotto di loro Ma come lo uso? Non lo so a dire vero In teoria sul loro spawn Ti immagini magari Magari Ma sono morto? Perché sono morto? Aspetta No 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 Di sotto No dai non ci credo Che palle Ancora di sotto Mi ha buttato Gli ho usato il black hole Si è messo davanti Ha beccato lui Non gli ha fatto niente Ma non lo so Secondo me devi tirarlo per terra Non addosso a qualcuno Oh diamanti Diamanti Ma secondo te quindi Le spadalezzine l'hanno levata? Non l'ho trovato nessuno Mi sembra Ma infatti cioè Io non l'ho trovata Ma a parte Meglio così perché Marci Ma lo sai che questi qui Sono i lucky block vecchi Ora che ci penso No c'è il Oh eccolo qui Eccolo qui il tipo Vieni qua Mi metto di mezzo Mi sono messo di mezzo Mi sono messo di mezzo Ok bella bella Io a parte Ok a parte il black hole Però le cose tipo Quelle che erano buggate Abitamente Lo c'è stato dei blazers Quella roba lì Io ce l'ho l'accetto Non è uscito nulla Oh i rossi sono eliminati dai verdi Ma come? Dobbiamo eliminarli noi E allora che si fa? Si va dai blu Eh stupido O si aspettano i verdi Che probabilmente saranno dai rossi E verranno da noi No c'è lo zombie C'è lo zombie Dova skin Skin Cosa? Eh c'è il tizio qua Marci io Sono dai verdi Ah no ok ci sono i lucky block vecchi Ci sono ancora Io l'ho visto in mano Non prende knockback Aspetta no Guarda De Fede Sono già dai blu Sono già dai blu io Non prende knockback No dai vabbè ma è ridicola sta cosa Aspetta Guarda ragazzi Te lo sto filmando Te lo sto filmando Ma come? No mi ha shottato C'è la spada lezzina Guarda 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 De Fede Che non prende knockback Dov'è? Dov'è scusa? Sono caduto Ah laggiù Non prende knockback Aspetta Non riesco Ok è vero È vero È vero No è caduto Si è buttato lui di sotto Col bastoncino Guarda non prende knockback Si è buttato lui di sotto Non prende Si è vero Non prende knockback Stava lì fermo Stava lì fermo Eh no ma poi siamo noi Che diciamo che Vabbè dai niente Eh vabbè è un po' un casino Comunque Ma ci hanno trovato la melop Cioè io ho trovato la melop Ma gli altri hanno trovato il coso Della spada lezzina Non so se li si è consumata Perché intanto Ho distrutto l'armatura Però Boh l'ho trovata Se si può ancora riparare Io penso di sì Hai distrutto quella con Torns Sì Eh man Non è che l'ho distrutta Si è distrutta C'è poco da fare Ender Pearl finally Ho 7 Senti Tu riesci un attimo A vedere se riesci a trovare La spada lezzina Mentre io mi dirigo Dal loro Dai blu C'è il server che lagga Come gli scrochi Ti giuro Non è ingiocabile No 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 Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Ho 4 attacchi In teoria non dovrei laggare Dai Muorici Muorici Ok E muorici Ti butto Ti butto di sotto Con lo stecchino Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Marci Io sto provando A ucciderli I blu Non hanno molta vita No Sono rimasti senza vita Chi? I blu I blu Non lo so Le è rimasto Le è rimasto un blocco solo Vai subito Vai subito Ce l'hai l'ender pearl Si No L'arco del tp Non è un problema Vai veloce Mangio la melopi Trovato Eliminati Allora Sono Sono pieni di diamanti loro Quindi li prendono tutti Prendi tutto e porta qualcosa Oh che bello Oh c'è uno qui C'è uno qui L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Era defede Quello che non prende knockback Era nudo comunque Quindi probabilmente è stato colpito No aspetta Era nudo No quando eravamo tornato No io non era nudo forse Quindi Probabilmente è stato colpito Con la spada lezzina Io man Ho recuperato Tantissimi Ho 45 diamanti Pensa te Però ancora non li utilizzo Vado Dagli altri Perché ho un arco Ah no c'è anche l'ender Per il perfetto Ma tu hai ossidiana Io sai che non l'ho trovato ossidiana Nemmeno io Nemmeno un petto A parte che non ho scavato tantissimo In questa partita Io tantissimo Marci io sono da loro Missato Colpito Ok No ma ha beccato qualcuno Ma ha beccato uno Siamo morti No no Marci marci No 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 Mi ha ucciso Mi ha ucciso Mi ha ucciso Come noi non abbiamo vita Così Abbiamo due blocchi Mi stai dicendo Ah è questo qui del fuoco Sto cretino Cioè Marci Seriamente noi abbiamo due blocchi Ma come mi ha buttato Il ragno mi ha buttato di sotto Ma siamo seri Ma lo sai che non siamo a bardare Ma Lo sai che Non lo so Non lo so E raga bardo con legno Che cazzo devo fare Io comunque ho l'arco del TP Quindi se provo a tirarla bene Magari Mi tippo direttamente Sì ok ce l'ho fatta A tipparmi direttamente Da loro Io lo che sei tippato Qua è morto Bene 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 No 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 cazzo Cazzo Guardalo guarda Sei tippato No distracto Su di noi Ok Io man non ce l'ho fatta Perché purtroppo Ho provato a fare Va che arriva Va che arriva Sì sta arrivando L'arco del TP Ecco sta spaccando Sta spaccando Marci E qui sotto Io sono qua Purtroppo Marci Io non ce l'ho fatta A fare il coso Lì la torrettina Perché sono in 1-9 Sono tutti due qua Sono tutti due qua Come Io uno l'ho ucciso L'ho ucciso Bella Bella Scaviamo Dobbiamo assolutamente Trovare qualcosa Perché non abbiamo nulla Non abbiamo nulla Non ci è sponato Ok ossidiana 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 Eh dammela Dammela subito Te la tiro Te la tiro qua Prendila te Ok Prendila un pochettino Oh c'è già qui Veloce 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 Io lo tengo occupato Ok Marci marci È già qui È già qui È già qui Ok Bella Meno male che c'eri te Veloce veloce Barda subito Ti aiuto anch'io Ah lasciala No come sono caduto Ma che cazzo Ok ce l'hai fatta Eh si guarda Ok Un pochettino bardo Da questa parte Non posso salire io Eh guarda Pure io Un minimo bardato Marci Con i blocchi Che mi erano rimasti Però Eccolo qua di nuovo Eccolo qua Prova a buttarlo di sotto E dai Vabbè ok Lui è caduto Per lo meno Lui è caduto Per lo meno Lui è caduto Allora vediamo Se si riesce a trovare Roba interessanti Bastarebbe anche Una spadalizzina Non me ne frega Se non si può riparare Ma mi servirebbe O una melopi Un qualcosa Aiutami anche te A scavare Marci Magari qualcosa È interessante Eh tanto Sto scavando Ero concentrato Perché stiamo mettendo Il blocco di ossidiana Sto concentrato Assolutamente Trovato qualcosa Non trovo niente Ma io non ho l'armatura Di nuovo Vuol dire che mi ha ricolpito Con la spada dell'izzina Prima Qualcosa di simile Eh Ce l'hai della legna Te Ah no Ok Niente Ce la crafting qua E devo fare assolutamente Un'armatura Cos'è per baradare In realtà No è dentro È dentro qua Tano Come 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 Tano Ma è uno squid quello No Marci Quello no Non doveva succedere Questo non doveva succedere Riesci a beccarlo Non lo so Marci Io non riesco a fare Eh si è chiuso dentro Con l'ossidiana Cazzo E mo E niente Si è chiuso dentro Con E mo E niente Ci ammazza adesso Si è chiuso dentro Con l'ossidiana No 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 Sto scavando Sto scavando Sto scavando Il tempo che ci mette lui a scavare È lo stesso che ci metto io Marci Marci sperami in bene Ce la dovrei fare Ecco No 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 Cazzo No Marci Vuoi sapere la cosa più tragica A me ha tolto l'ossidiana C'era lui Marci L'ho colpito Aveva l'armatura con Tors Mi ha buttato di sotto Devastante Ma no Veramente Mi ha buttato di sotto Perché aveva Tors Quindi ragazzi Si è partita Devo dire Un po' anomala Potevamo farcela Purtroppo Io Sono nella versione 1.9 E quindi In più occasioni Non sono riuscito a fare una torretta Perché sono sul loro nucleo Perché più volte Mi si ricreava Cioè Me ne andava via il blocco Quindi Marci è veramente Una cosa devastante E poi Non abbiamo trovato nulla Cioè diciamo Niente 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 Tutta la partita senza ossidiana L'ho trovata all'ultimo secondo Così Per guardare un minimo Due strati Non su uno strato Così Cioè veramente ragazzi È una partita sfigatissima Ma comunque Devo dire che Un team l'avevamo eliminato Quindi più o meno Ci poteva anche stare Comunque Detto questo Il canale di Marci Come al solito Lo trovate in descrizione Spero che il video vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti Bella Bella